L'Abruzzo potrebbe tornare zona rossa se il Tar dell'Aquila dovesse decidere domani per l'accoglimento del ricorso presentato dal governo contro l'ordinanza del presidente Marsiglio che ha riportato motu proprio l'Abruzzo in zona arancione prima del pronunciamento della cabina di regia prevista per domani. La regione tornerebbe in zona rossa per due giorni fino a lunedì perché è praticamente certo che dall'osservatorio nazionale arrivi il via libera al provvedimento del ministro della salute e speranza per la zona arancione da lunedì. L'udienza al Tar è prevista domani nel primo pomeriggio in via telematica. Il presidente del Tar, Umberto Re Alfonso, avrebbe così deciso di non tener conto della iniziale richiesta di prendere una decisione inaudita altera parte, ossia senza ascoltare la regione, avendo deciso di prendere in esame le varie posizioni. A questo va aggiunto che non è detto che in quella sede il Tar si pronunci solo per una sospensiva dell'ordinanza, ma potrebbe anche entrare nel merito. Qualora venisse confermato quello che il governo ha scritto nel ricorso, e cioè che l'Abruzzo dal 27 novembre ha presentato dati sui contagi più positivi e quindi dopo 14 giorni, scadenza 11 dicembre, sarebbe tornata arancione, allora il via libera ci sarebbe, ma con la operatività che il ministro Speranza sancirebbe per domenica 13. Quindi sarebbe da capire cosa accade in regione. Qualora il Tar dovesse decidere, domani l'Abruzzo tornerebbe in zona rossa per due giorni. Se si dovesse riservare accadrebbe per poche ore o addirittura per nulla, se la decisione dovesse arrivare tra domenica sera e lunedì.